Una casa indipendente, una casa abbinata, un capannone, due garage, un giardino privato, lungo la strada statale? Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo complesso immobiliare in vendita. Grazie a tutti. Siamo a Glorie, una frazione di Ravenna e qui si trova questo complesso immobiliare composto da una casa indipendente su quattro lati di oltre 195 metri su due piani, una casa abbinata, libera su due lati, di oltre 130 metri, sempre su due piani, un capannone che era un ex cantina vinicola di oltre 550 metri, due garage e un giardino privato di 1500 metri. Sono tutti fabbricati da ristrutturare, come puoi vedere da queste foto. questa è la casa padronale indipendente su quattro lati. questa invece è la casa abbinata, libera su due lati. qui invece vediamo il capannone di oltre 500 metri che era adibito a cantina vinicola, ma che può essere utilizzato tranquillamente come deposito, rimessaggio, infine abbiamo due garage ed un parco privato di 1500 metri. sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. ci vediamo in visita! ciao 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 ciao